Questa crisi non è solo sanitaria ma anche economica, proprio in questi giorni stiamo per andare in giunta per dare un sostegno alle attività commerciali, per sospendere le bollette per quanto riguarda la Tari e spostarle al 30 giugno, così come per annullare completamente quella che è la COSAP per i commercianti che fanno la fiera settimanale. Abbiamo sospesi il 13 novembre le attività didattiche nel comprensivo, dalla scuola dell'infanzia alla scuola media fino al 4 di dicembre. Stiamo elaborando un progetto, mercoledì mattina abbiamo un incontro con un rappresentante dei medici di base, il dottore Giuseppe Bernardo, che anche lui è stato colpito, è stato positivo, oggi è guarito e quindi è tornato all'attività. Per cui adesso il nostro secondo passo è quello di creare insieme ai medici di base un supporto sanitario a tutti i malati Covid. Ne abbiamo circa 400 a Santa Maria V, per cui il nostro impegno è quello di dare un'assistenza, non solo quella psicologica, che stiamo già dando, ma anche sanitaria per fornire un infermiere, per fare in modo che ci possa essere una visita di specialisti. Per quello che sono le nostre competenze, siamo andate oltre e tenderemo ancora una volta di dare e di assistere questi che oggi hanno delle difficoltà, sperando che arriva quanto prima il vaccino, così ne usciamo e cominciamo a svolgere anche quello che è il ruolo di un sindaco, di un'amministrazione che deve fare, quello di portare avanti il programma amministrativo che oggi, devo dire per la verità, abbiamo trascurato per dare il nostro massimo impegno a questa pandemia che veramente sta facendo male a tutti, non solo a Santa Maria V, ma alla Campania e al mondo intero.